I sindacati non nascondono rammarico e delusione per la situazione che si è venuta a creare a causa dell'aumento del costo dei parcheggi nella città di Pescara, una città, quella del capologo adriatico, tradizionalmente a vocazione commerciale e turistica, che in questi due anni, a causa della pandemia, ha sofferto per la perdita di posti di lavoro e di tante chiusure di attività commerciali. Se a questa crisi economica ed occupazionale, spiegano i sindacati, si aggiungono i rincari del costo delle energie e dei carburanti e la perdita del potere d'acquisto di pensioni e salari a causa dell'inflazione, non è assolutamente comprensibile la logica degli aumenti delle tariffe per il parcheggio, visto che Pescara ogni giorno è raggiunta da pendolari che vi si recano per lavoro e a cui si sommano i residenti e tutti coloro che giungono nella città per varie ragioni, commercio e turismo in primis. Innanzitutto noi abbiamo preso questa posizione perché è incredibile quello che sta succedendo, meno spazi bianchi, spazi bianchi intendo i parcheggi non a pagamento e molti molti nuovi parcheggi con le strisce blu. Considerando che l'anno scorso c'erano molto meno strisce blu, addirittura noi siamo passati da due anni fa dove non si pagava la sosta a lungo mare, si pagava la domenica, il sabato ed agosto, l'anno scorso è passata a tre, quest'anno è passata a cinque, a noi ci sembra una politica molto semplice da fare aumentare le tasse sempre ai soldi noti, perché non ci dimentichiamo che i lavoratori, i lavoratrici, i pensionati già pagano l'IRPEF, pagano l'IVA e pagano tante altre cose. Magari ci saremo aspettati dal Comune e dalla Regione una riduzione dell'IRPEF visto quello che sta succedendo. Ad oggi la benzina è ritornata a 2 euro, le bollette sono alle stelle, ma vogliamo continuare a massacrare i cittadini? Noi pensiamo che sia una politica sbagliata, CGL e Cisleville pensano che sia una politica sbagliata e soprattutto è una politica molto semplice, mettere solo le tasse.